Eccomi qua, Halloween, convento di Leonato, ho paura a girare da solo Dave, seguimi, seguimi, ho paurissima, ho una cosa pazzesca, siamo qui alla ricerca Rebrividiamo, siamo alla ricerca di qualche vergine, stiamo cercando qualche verginella, attenzione, sarà forse lei la nostra verginella? Vediamo, come ti chiami? No, questa allora, questa come ti chiami? Che fa? Digestiva, questa ragazza è digestiva, che fai? Rigurgiti? No, no, ok, fammi uno sciacquone? Ok, eccoci qua, sei verginella? No, no, gravissimo, e chi sei? Mi chiamo Sabrina, da dove vieni? Calcinato, e cosa sei qua a fare? Sono qua a cenare, poi speriamo che l'animazione sia divertente Ah, pensavo che la mia zoneta ti facesse perdere l'avversità, ma mi hai già detto che... Ci sarà da morire di paura! Ci sarà da morire di paura! Ci sarà da morire di paura! Ci sarà da morire di divertimento! Guarda che queste me le suggeriscono, è proprio una cosa pazzesca Quindi sei carichissima? Carichissima! E quella là? Quella chi è? Eh, si chiama Gloria, è una mia cara amica e... Dimmi qualcosa di Gloria, intanto che la riprendiamo! Eh, Gloria sei vergine o no, così... Dillo tu, dillo tu, dillo tu! Gloria, cosa devo dire? Gloria, intanto sta mangiando? Eh, no comment... No comment... No comment... No comment... Importantissimo! Siete single però ragazze? Sì! Aspetta una... Allora andiamo dalla Gloria che ci frega di lei! Eh, che cavolo! Eccola qua! Gloria, fammi la faccia da single? Fammi la faccia da vergine? La mia! Fammi la faccia da quella che ha perso l'avversità? Eh, non so! Fammi la faccia da quella che vuole perdere l'avversità stasera? Ah! Sono spaventosa questa cosa! Ok, un appello, ragazze, venite! C'è Gloria, che vi aspetta! Ah, ad ascelle aperte! Ok, ciao, ciao, ciao! Divertitevi! Aspetta! Divertitevi! Aspetta! Eh, cavolo! Ah, ah, aspetta! Ah! Divertitevi!